Eros è partito Benissimo la chiusura del cancello Lascia qualcosa sulle barriere Benissimo l'ingresso del quadrato Una leggera imperfezione all'uscita Ora siamo al barrel Velocissimo Verso il punto Bene il pull Nella prima fase Ripetiamo che per questa categoria il pull È previsto per l'appunto nelle due direzioni Ultimo esercizio Grandissimo la chiusura con questo ultimo esercizio Il suo tempo di 1'39'84 Ripeto 1'39'84 È il tempo di Eros Capocchia Ed ora è il turno di Roberto